ho fatto un video tempo fa sul canale dedicato proprio a chi utilizza software crackato spiegando in sostanza perché uno come r2r o buarez si dovrebbero sbattere per anni nel tentativo di craccare un sistema solo per far vedere che è figo e dare quindi a tutto il mondo il frutto proibito in nome di un ideale comunista o peggio come ho visto recentemente smascherare il presunto lavoro di alcuni programmatori bantandosi manco fossero capitano arlock c'è anche una storia dietro la pirateria informatica avendo una certa età e provenendo dal mondo geek degli anni 80 ho frequentato i veri hackers e i crackers e spesso queste due categorie vengono confuse come se fosse la stessa cosa tutti quelli che ho conosciuto incontrato e frequentato nella mia vita hanno fatto questo lavoro solo per uno scopo ben preciso fare i soldi non c'è mai stato nessun altro ideale di altra natura dietro chi afferma il contrario mi sta veramente prendendo per il culo nel mio nuovo libro commodore 64 versus zx spectrum ho affrontato il tema della pirateria perché proprio questi due computers diedero il via libera alla copia selvaggia delle cassette le cassette software che venivano quindi distribuite in edicola che furono le prime vittime effettive di questa pratica e soprattutto in italia divenne familiare e anche condivisa idealmente un po' da tutti lo vediamo perché ancora diamo poca importanza ai prodotti digitali rispetto a quelli reali e fisici nessuno di noi si sognerebbe mai di entrare in un negozio e tentare di rubare un paio di genel ecco urlando è giusto che tutti abbiano la stessa opportunità questo comportamento dicevo è frutto degli anni 80 e torniamo in italia anzi prendendola proprio come esempio la pirateria informatica prese piede grazie ad un vuoto legale tra il 1982 e 1992 la nostra amata cara terra non aveva una legge contro la pirateria informatica e un ragazzino come me a 12 anni come penso anche voi non capiva il danno che stava effettivamente facendo fin quando non ci siamo poi ritrovati negli anni 90 senza un intero settore lavorativo e produttivo che fosse competitivo nel mondo ci siamo trovati di botto quindi 10 anni indietro perfino la spagna riuscì a superarci in questo creando delle software house e compagnie di software e hardware all'avanguardia lasciandoci fermi al 1982 con metà della popolazione quasi analfabeta grazie quindi ai danni che abbiamo fatto e la colpa non era ripeto soltanto nostra perché 10 12 anni non è che hai una consapevolezza che puoi avere a 40 ma di chi ha volutamente invece sfruttato quel vuoto legale per fare miliardi appalate a discapito di un intero settore lavorativo il danno che abbiamo creato è stato mostruosamente enorme quando sento parlare l'italia negli anni 70 era una superpotenza industriale è vero è vero ma dopo quando tutto il mondo iniziava a sviluppare sistemi informatici di comunicazione e aziende software noi dove stavamo chi si laureava qui da noi in informatica scappava all'estero per cercare lavoro e lo fanno ancora oggi perché non ci furono subito grandi software house italiane perché non essendoci un mercato a causa della pirateria nessuno era così scemo da investirci anzi alcuni lo fecero facendo un tonfo storico impossibilitati appunto in una qualsivoglia difesa legale nel libro racconto come fu possibile denunciare ad esempio la sipe per un uso improprio di un personaggio sotto licenza da parte della jackson ma non si poteva fare nulla contro i software copiati in edicola di contro le aziende inglesi evitavano di investire in italia perché cercare di contrastare le copie pirata se non c'era una legge i programmatori come me come altri come carlo sant'agostino rinunciarono a lavorare come programmatori potendo guadagnare la stessa cifra magari recensendo giochi o chitarre sulle stesse riviste specializzate chi aveva voglia di investire in un settore marcio in quel periodo ci trovavamo in una vera e propria giungla dove anche i negozianti acquistavano una sola copia originale e poi la duplicavano per venderne altre e dove ad esempio riuscivi ad acquistare una copia originale che magari non funzionava ti veniva data in sostituzione una versione copiata ecco cosa ha comportato la pirateria in italia uno stop all'innovazione tecnologica di 10 anni soltanto dopo gli anni 90 come dicevo si iniziò a vedere programmatori e software house competitive protette finalmente dal copyright internazionale oggi abbiamo tantissime compagnie italiane famose nel mondo soprattutto nel mondo audio come dsp4 ik multimedia hornet sk node acustica over loud decine di altre per non parlare poi di quelle che fanno i videogames se avessimo mantenuto quel vantaggio degli anni 70 non saremmo al pari degli altri ma ancora in vantaggio ecco quali sono i danni della pirateria non c'è alcuno spirito liberatorio dietro a tutto questo ma soltanto è sempre stata soltanto una speculazione parliamoci chiaro siamo la causa del nostro male negli anni ho visto aziende addirittura crackare i software di altri concorrenti soltanto perché non riuscivano ad essere competitivi sul mercato lì ovviamente si tratta più di invidia un altro fattore che comunque tralasciamo in questo video inutile nascondersi ma tutti abbiamo convissuto con l'illegalità a parte il gusto di dire ce l'ho copiato quando hai 15 anni è un cd uno vhs o le cassette stesse oggi lo riviviamo con le pay tv gli account rubati o condivisi è sempre stato un problema a mio avviso percettivo il lavoro digitale sembra non essere degno di un pagamento poco importa se aziende collaboratori famiglie vivono di quel lavoro l'importante è non pagarlo ma usarlo ed usufruirne sempre magari appunto anche vantandosi certo certo sono molto dispiaciuto di aver utilizzato i giochi copiati nel 1983 ma lo sono oggi perché capisco che tipo di danni feci io e facevano i miei coetanei anche solo alimentando le cassette in edicola con i giochi copiati che venivano all'epoca spacciati per originali sono dispiaciuto perché oggi conosco i programmatori che come sapete aiuto facendo beta testing gratuito do loro il mio tempo perché se lo meritano e creano ovviamente gli strumenti che uso per lavorare perché conosco oggi i programmatori storici che fecero i miei videogiochi preferiti come Clive Townsend, Jim Bugley, Gerard Bentley e che purtroppo all'epoca utilizzavo copiati li trovate intervistati nel mio libro e che oggi sono diventati miei amici e che continuo a supportare nelle loro produzioni sempre in forma gratuita perché sono persone come me e voi e non meritano di vedersi dei nerd di cazzo sventolargli la copia pirata in faccia come purtroppo ho visto accadere. Ho affrontato nei seminari spesso il discorso sulla pirateria informatica soprattutto con i giovani e per quanto possa comprendere che fosse difficile magari nel 1996 avere un software professionale su cui studiare rimango convinto che fosse sia all'epoca sia oggi una scusa per giustificare il proprio fallimento. Capisco che sia una frase brutta, offensiva ma soprattutto oggi vista l'enorme quantità di software gratuito vecchie versioni, software usato, licenze educational, black friday e vari. È impossibile non avere strumenti professionali a zero costo o comunque a costi veramente miseri. Nella maggior parte dei casi basta aprire un canale youtube come vediamo e chiedere una licenza gratuita per fare una recensione o un trading di pubblicità. Quello che non si può avere gratis sono l'esperienza e le apparecchiature che vi servono per fare il lavoro. Ho assistito anche ad alcuni miei colleghi che ancora usano software craccato. L'ho visto e a mio avviso non ha senso visto che poi comunque ci lavorano e guadagnano dei soldi. Lì entriamo forse nel campo della miserabilità non tanto della professionalità ma comunque non ne discuteremo in questo video. Come sapete il mio canale è colmo di video gratuiti. Tutorial gratuiti sono tutti sempre legati a tecniche di mix e mastering anche quando parlo di plugin vi mostro come utilizzarli come li uso e non potrò cambiare il fatto che poi qualcuno se lo andrà a cercare ovviamente craccato oppure per chi ha visto un video su una scheda audio o una cuffia vada su Toman invece che aiutare l'importatore italiano di turno nel suo lavoro e vi assicuro che l'importatore vi fa lo stesso prezzo di Toman ma con in più ovviamente l'assistenza in italiano. Guardando poi anche ai commenti sotto ai miei video e qui risponderò ad alcuni di loro pensare a mio avviso di fregare qualcuno non è un vanto. Non viviamo in un mondo dove chi frega vince sempre anzi più si va nel professionale più si comprendono certe dinamiche ed il costo del tempo impiegato per sviluppare gli strumenti adatti al proprio lavoro. Pensare di essere sempre più furbi è un atteggiamento spesso preso da chi non lo è. È naturale pensarlo bisogna sempre tenere a mente questo perché naturalmente siamo portati a credere di essere più furbi di quello che siamo in realtà. È un dato di fatto scientifico non è una mia osservazione personale questo è un dato importante da capire molte ricerche ci dimostrano che siamo portati a pensare di avere sempre un corretto grado di giudizio non accettiamo il poter fallire che sia la società il luogo le persone che frequentiamo siamo purtroppo portati a pensarla in questo modo. È più a mio avviso il livello culturale che si abbassa e porta questo fattore a diventare predominante arrivando anche ad atteggiamenti arroganti e poco inclini ad una effettiva discussione costruttiva. Non a caso gli americani sono maestri in questo. Pensiamo ad un attimo a quando crediamo che sia possibile guidare anche mentre guardiamo il cellulare o magari guidare dopo aver bevuto qualche bicchiere o a chi pensa che si possano fare due o tre cose contemporaneamente. Il multitasking nel nostro cervello non esiste questo è un dato scientifico. Lì parliamo di strafottenza vera e propria e lo ritrovo nei commenti sotto i miei video alcuni spesso li vengono rimossi non da me ma da chi li scrive perché magari si vergognano dopo averli iscritti ma purtroppo per voi li ricevo in notifica nella email e quindi li vedo lo stesso. Alcuni mi hanno chiesto se è un atteggiamento tutto italiano. No oggi grazie ad internet la pirateria è super diffusa si trovano forum e server a pagamento guarda caso tipo rapid gator o file factory non è che vi danno i software craccati gratis vogliono la vostra carta di credito con dei soldi sopra. Come vediamo torniamo sempre al discorso iniziale che nessuno lo fa gratis dove poter appunto scaricare software copiato che molte volte come abbiamo visto in un video precedente installa anche malware o ransomware nel vostro computer che poi vi freghi o meno però comunque nel mucchio prima o poi qualcosa beccano e uno studio professionale non si può permettere una cosa del genere perché nello studio come il mio ad esempio ci sono archivi di album archivi di lavori che non sono stati ancora pubblicati e che non posso mettere a rischio i miei clienti perché ho utilizzato i plugin della Waves craccati e che mi abbiano magari installato un malware o mi abbiano bloccato tutto il sistema con un ransomware. Vorrei adesso rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte proprio sull'argomento e allora iniziamo con Camperdo che scrive ma perché certi software costano 800 euro se una edizione pro costasse che ne so 100 euro non sarebbe quello un buon metodo per sconfiggere la pirateria? Già il costo di un videogioco che ha lo stesso se non più numero di sviluppatori? Allora paragonare un software audio da 800 euro ad un videogioco ci dà la stima di quanto Camperdo fa sul suo punto di vista. Un videogames ha una diffusione infinitamente più ampia di un software audio parliamo di milioni in alcuni casi di miliardi di utenti e se un gioco costa 10 euro moltiplicato per 10 miliardi è facile fare i conti e quindi capire anche il tetto di guadagno di questi giochi. Una DO per quanto famosa che sia arriva sì e no ad un milione di utenti nel mondo e deve coprire una infinità di variabili che un videogame si sogna quindi il lavoro è spesso non svolto da migliaia di persone ma da decine di persone che si sbattono per stare dietro a tutte le innovazioni che susseguono e a differenza dei videogames le DO devono essere retrocompatibili devono saper esportare materiale e quindi non possiamo paragonarle in nessun caso ad un videogame. È come se parlassimo di mele e di automobili sono due cose che non giocano neanche la stessa partita figuriamoci il campionato. Prendiamo ad esempio Tomb Raider non lo vedremo mai aggiornato per girare su una macchina prodotta dieci anni dopo se non a pagamento dovendo ricomprare Tomb Raider e dovendo anche ricomprare la macchina quindi la playstation su cui doverlo far girare e non mi sembra che qualcuno si sia mai lamentato di questo. GECCO3662 invece ci dice vorrei aggiungere sembra un controsenso ma capita che siano le stesse software house musicali a pubblicizzarsi negli stessi portali dei software pirati. Alla fine la pirateria è sì un danno su questo non si discute ma è anche un beneficio perché aumenta notevolmente il numero di persone che fanno musica e questo sicuramente è un beneficio per tutto il mondo musicale. È la stessa identica cosa che leggevo negli anni 80. Se gira più software copiato vendiamo più Commodore 64 e ZX Spectrum. Non è così altrimenti in Inghilterra dove c'era prevalentemente software originale avremmo assistito a una diffusione minore sia dello Spectrum sia del Commodore cosa che non avvenne e quindi hai la dimostrazione pratica che non accade in questo modo. Chi usa software craccato difficilmente anzi quasi mai lo usa originale. Non sai quanti mi hanno scritto negli anni o sono venuti qui in studio per chiedermi una copia di quello che usavo io come se fosse diciamo naturale averla. Morp invece scrive Windows nel 90 senza la pirateria non si sarebbe mai diffuso ovunque. Allora Microsoft dava in larga scala licenze a tutti per poter diffondere Windows non è che fosse stato craccato si sarebbe diffuso maggiormente. Cosa che fece anche con Internet Explorer. Non è che la pirateria abbia contribuito alla diffusione di Microsoft. Anche nel Commodore 64 il Basic di Microsoft e venne dato in concessione alla Commodore per soli 25 mila dollari. Cioè loro hanno venduto milioni di macchine col Basic Microsoft e hanno speso due peanuts. Poi oggi le licenze di Word o di Windows si trovano a cifre veramente ridicole. Embulus 75 scrive se invece utilizzi i craccati per tuo diletto o chissà per poi arrivare a lavorarci e quindi te li devi comprare non vedo un grosso problema. Anzi io ci vedo un vantaggio per le software house che avranno più professionisti che abituati a quei tool non ne compreranno un altro dalla loro concorrenza. È un dato di fatto invece che chi usa software craccati non passi alla versione originale. I dati sono così bassi che non hanno neanche senso prenderli in considerazione. Anzi pensiamo al danno che si fa invece nel frattempo. Magari una software house ha appena iniziato, appena aperto con un buon prodotto ed è costretta a chiudere dopo due o tre anni perché non riesce a coprire le spese di sviluppo supplementare. E l'utilizzatore del software craccato, della versione craccata di questo programma passerà ad un nuovo software craccato, contribuendo nel frattempo, come tanti, a pensare di aver fatto comunque una buona azione. Come vediamo tutti i commenti sono fatti da persone che non utilizzano il proprio nome. Ci si vergogna in fondo di quello che si dice? Non lo so. In ogni caso non ci sono giustificazioni reali all'uso di software copiato. Per quanto possiamo trovarne creano in ogni caso danni ai programmatori, alle loro famiglie, ai loro sogni ed hanno nel tempo devastato un mercato che sarebbe potuto essere il fiore all'occhiello del nostro paese. Ecco quindi il vero rammarico che ho. Aver vissuto tutto questo tempo assistendo ad una disfatta voluta e mai contrastata da noi stessi. L'etica invece è un discorso più ampio, più filosofico. È un mio percorso personale verso un mondo migliore. Qui parliamo di autoinfliggersi un danno enorme a noi e ai nostri figli in futuro che si è poi protratto in ogni campo e ci porterà a vedere sempre di più un'emigrazione verso l'estero e che sembra ormai una delle pochissime scelte plausibili in questo paese. Chi vuole conoscere meglio in retroscena con le confessioni dei primi pirati le trovate sul mio nuovo libro Commodore 64 versus ZX Spectrum su Amazon o in libreria. Spero che questo video vi sia stato utile e in qualche modo vi abbia fatto riflettere su come il nostro comportamento influenza le vite degli altri. Per il momento è tutto. Ciao a presto.